Giovanni Gabriele Federico e Gabriel tutti 14 anni sono i quattro allievi dell'associazione musicale Giuseppe Chimienti guidata dal maestro Lorenzo De Felice ammessi al conservatorio Giovanni Paesiello di Taranto i ragazzi hanno tutti superato l'esame di ammissione e suonano trombone tromba clarinetto e sax e sono l'orgoglio del loro maestro che anche quest'anno è riuscito a mandare in conservatorio quattro dei suoi allievi una soddisfazione enorme per chi nella musica crede e per chi vuole mandare avanti la tradizione bandistica della città di Montemesola quattro giovani allievi dell'associazione musicale Giuseppe Chimienti sono stati ammessi al conservatorio quale emozione per il maestro? Assolutamente una grande emozione per noi il nostro compito è quello proprio di far appassionare i più piccoli allo studio della musica e dello strumento musicale in particolare strumenti a fiato proprio per portare avanti la tradizione bandistica Montemesolina noi nel corso dei nostri vent'anni sono usciti tantissimi talenti alcuni hanno suonato a Santa Cecilia nelle maggiori orchestre italiane e internazionali altri suonano in grandi orchestre come ho detto prima insegnano anche al conservatorio e alcuni sono anche i miei colleghi a scuola presso le scuole superiori di primo grado. Giovanni Vitti 14 anni suona la tromba ed è stato ammesso al conservatorio Giovanni Paesiello di Taranto un traguardo molto importante come pensi di conciliare lo studio della musica e gli studi ovviamente? Allora ovviamente non è molto facile però secondo me tutto può conciliarsi poi anche in base diciamo alla passione uno se ha la passione trova il tempo di fare tutto A quanti anni ha iniziato lo studio dello strumento? A 10 anni Sempre qui con il maestro De Felice? Sì Allora quando sono arrivato ero un po' indeciso perché non avevo mai sentito questa associazione poi sono entrato ho fatto una prova prima con clarinetto e sax e poi con la tromba e mi è piaciuta subito la tromba Gabriele Leone 14 anni suoni il clarinetto e anche tu come i tuoi compagni sei stato ammesso al conservatorio Giovanni Paesiello di Taranto Allora si è iniziato a 8 anni subito qui in associazione col maestro inizialmente non sapevo neanche io cosa suonare anche se iniziando già provando feci una prova già col clarinetto e mi appassionò subito e per questo ho scelto di suonare il clarinetto Andrò avanti in conservatorio ovviamente ma anche a scuola sperando di ottenere buoni risultati in tutti e due Federico Spada 14 anni suona il sax anche tu in conservatorio Un'emozione grande perché da tanto tempo che sono in questa associazione circa 8-9 anni e sono molto contento Gabriele Carelli 14 anni suona il trombone e presto inizierà l'avventura presso il conservatorio di Taranto Certo sarà un'avventura anche questa molto difficile da affrontare come questi 8 anni passati in associazione però con l'impegno tutto si può superare e per questo spero di andare avanti con questo percorso I ragazzi hanno detto che all'inizio del loro percorso qui in associazione hanno provato diversi strumenti per poi arrivare a scegliere quello che oggi fa parte del loro percorso musicale di studi Come prende forma questa scelta? La verità è che tutti gli strumenti sono belli, tutti gli strumenti sono facili ma possono essere anche difficili Dipende tutto dalla passione che uno ci mette All'inizio facciamo provare i vari strumenti a fiato e poi sono loro sempre a decidere qual è il loro strumento Comunque devo fare davvero i complimenti ai quattro Un'ottima annata, un'ottimo vino, sono ragazzi davvero eccezionali